Grazie Presidente. Alcune puntualizzazioni sono d'obbligo in merito a questo emendamento che praticamente chiede al Governo di sostituire totalmente l'articolo 14. Abbiamo già detto che questo emendamento è il testo unificato della relatrice Binetti in sede di Affari Sociali e che ha visto praticamente la positività di tutte le forze politiche della Commissione Affari Sociali. Ora sentirmi dire da parte del sottosegretario Baritta che la sede naturale di un testo di legge che prevede la prevenzione, la cura, la riabilitazione del gioco d'azzardo per chi sente un mandato sociale nella propria attività politica sentirsi dire che la sede naturale quella della delega fiscale significa veramente non avere le condizioni minime per poter interloquire in maniera tranquilla perché non può essere la delega fiscale la sede naturale di ciò che prevede la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo. Questo è il primo puntino sulle IDAF.